Presidente Iachini, presentato Tedino, allenatore ambizioso per questa categoria, come è ambiziosa la sua società? La società è assolutamente ambiziosa, molto ambiziosa. Tedino penso che sia una persona in grado di poter dare tutte le garanzie per mantenere una squadra al massimo della coesione e comunque organizzare effettivamente il team alla meglio. I nomi che stanno uscendo sono importanti, ce ne sono ancora ben importanti in ballo, però come ha detto non ci facciamo prendere la fretta. Avete chiuso praticamente con Di Matteo, arriverà a breve Mungo, quindi comunque giocatori molto importanti per la categoria. Sì, Di Matteo ho firmato proprio questa mattina, abbiamo firmato, qui da me in Zena, Mungo. Vogliamo cominciare a usare la parolina promozione o ancora non se la sento? No, 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 mi hanno detto che non si possono usare fino alla penultima di giornata. Quando è che è Presidente del Teramo? Ma forse neanche due mesi. Sta piacendo? È veramente impegnativo, nel senso che mi ha stravolto un po' tutto quello che è il mio orizzonte lavorativo, dovrò riorganizzarmi, non che lo lascerò perché assolutamente, però è normale che questa prima fase è caratterizzata dal prendere in mano due società, diciamo, perché oltre al calcio c'è anche quella dello stadio, quindi organizzare due team e unirli è abbastanza impegnativo, me lo posso assicurare, considerando che ci sono poi tutti i lavori importanti da fare, non solo il Prato, stiamo venendo anche per dare allo stadio una veste di struttura ricettiva per eventi, perché Teramo dovrà anche rilanciarsi sugli eventi, pensiamo di fare, speriamo, nel prossimo anno dei concerti molto importanti e quindi insomma c'è tante cose da mettere in gioco subito in questa fase. Per Mungo quasi, dovremmo entra domani e dopodomani chiudere, speriamo. Situazione ingaggio risolta? Sì, sì. No, no, siamo d'accordo, adesso è chiaro che fino a quando firma poi possono sempre, magari viene una squadra di Serie B che lo vuole e lo perdi. Cianci e Infantino, reparto offensivo, cosa manca? Mangano altre due punte. Che caratteristiche devono avere? Le caratteristiche si integrano bene sia per come gioca il mister sia con Cianci che con Infantino. L'ultima mi ha colpito, mi colpì molto quando in conferenza stampa la sua presentazione disse noi vogliamo mettere le basi con il settore giovanile, insomma, quinquennale accette Di Mascio, credo che sia una risposta non forte, fortissima. Fortissima perché Di Mascio è un'eccellenza del calcio giovanile in Italia, per cui questo è stato forse al momento il colpo più grande perché intanto ci sgravia del lavoro che dobbiamo fare tutti perché lui è talmente bravo e organizzato che noi non penseremo più al settore giovanile, tra virgolette, e poi è una persona troppo leale e penso che sia bene molto con noi.